La spinosa questione relativa al deposito GNL che Edison intende costruire nel porto di Brindisi, precisamente a Costa Morena Est, sta ponendo in essere innumerevoli interrogativi su più livelli, dal piano ecologico a quello occupazionale, passando anche da quello politico. Se sui primi due aspetti si è detto di tutto e di più, sul piano politico la questione è ben più delicata. Ebbene, esiste un dibattito sulla vicenda Edison all'interno della maggioranza Brindisina, con diverse posizioni ed a volte contrastanti, come quelle ad esempio dell'assessore all'ambiente Antonio Bruno e del consigliere di Fratelli d'Italia Roberto IV, che hanno manifestato apertamente la loro contrarietà al progetto. Ma il consiglio comunale monotematico di qualche settimana fa ha prodotto l'approvazione unanime di una mozione, che dunque ha trovato sponda in tutti i gruppi consigliari di maggioranza e opposizione, dimostrando maturità e di voler mettere al primo posto il bene del territorio. La volontà espressa dall'assise democratica però non ha convinto il consigliere regionale di azione Fabiano Amati, che ha nell'esecutivo l'assessore agli affari legali Daniela Maglie. Una decisione questa che ha fatto riflettere Amati sul futuro, anche in vista della proposta del governatore di Puglia Michele Emiliano, il quale vuole affidare il ruolo di assessore proprio al consigliere di azione, alla luce di un possibile rimpasto nell'esecutivo regionale, in prospettiva anche di un eventuale terzo mandato, idea che Emiliano non ha mai accantonato. Ma azione pare non volersi piegare alla volontà del PD e nel congresso tenutosi a Brindisi, Amati ha sottolineato che se si rispetta il programma elettorale a Brindisi, che ha visto lo stesso partito di Amati, unito alle forze di centodestra, non ci saranno rimpasti in giunta a Marchionna, allontanando dunque qualsiasi ipotesi di confluire nel governo Emiliano di centro-sinistra. Resta però ancora scoperto il filo che potrebbe comunque far saltare parzialmente la corrente all'esecutivo comunale. Ipotesi al momento remota e le prossime settimane daranno risposte più concrete sullo stato di salute della giunta a Marchionna.